San Benedettese e Gubbio di fronte a Riviera delle Palme per la ventitresima giornata del girone B di Serie C. 3-4-3 per Capuano, Pagliari confermi 4-4-1-1. Quarto minuto, Burzigotti trattiene Miracoli al limite dell'area. L'arbitro Pasciuta di Agrigento assegna punizione ed ammunizione per l'ex Messina. Alla battuta Vatomi, che calcia di potenza incocciando il palo esterno a volpe battuto. Tredicesimo minuto, contro i piedi Gubino da manuale del gioco, con Marchi che ispiri in profondità Malaccari. Tocco di prima per Calombo, che corre sino al limite dell'area servendo un'assistenza prelibata a Casiraghi, ma il numero 10, con Perina fuori causa, calci incredibilmente fuori dallo specchio della porta. Occasione macroscopica fallita da Casiraghi. Amaro remake, già visto nella trasferta di Salò. Al sedicesimo, ancora Casiraghi protagonista. Il numero 10 salta un paio di avversari, effetto in 1-2 perfetto con Marchi e penetra in aria, ma Perina esce con prontezza oscurando la vallata al fantasista di Treviglio. Al ventiquattresimo, punizione profonda liftata di Bacinovic. Valente sfrutta un blocco cieco e sbuca sul lato destro dell'area, conclusione volante fuori misura. Al 35esimo, altra punizione profonda di Bacinovic. Paolelli devia, di testa, alimentando però Vallocchia, sinistro centratinare, messo fuori ancora da Paolelli, il rompe gelolese, che calcia alle stelle. Al 39esimo, Breck di Rapisarda, che salta secco Piccini, arriva sul fondo e mette in mezzo eludendo l'uscita di Volpe. Burzigotti spazza rifugiandosi in corner. Dall'angolo successivo, la sfera resta pericolosamente nell'area piccola per l'incornata botta sicura di Miceli, ma Volpe, con un riflesso felino, salve il risultato. Si passa la ripresa e dopo pochi secondi, Casiraghi batte un corner a rientrare sul palo lontano. Perina smanaccia centroarea, tuffo d'angelo di Paolelli, che deviato, termina sull'esterno alto della rete. 48esimo minuto, San Pietro recupera palla a centrocampo e serve Marchi, che a 50 metri dalla porta lancia un'occhiata a Perina, vede che fuori dai pali ed estra dal cilindro una palombella mirabolante, che gonfia la rete, nonostante il vano colpo di Reni dell'estremo difensore del team marchigiano. Ottavo gol in stagione per Marchi, probabilmente il più bello della carriera, che viene festeggiato con una lunga corsa sotto i supporters rosso-blu. Una protezza autentica, che si candida già ad essere una delle più belle del panorama calcistico nazionale. La Samb prova a reagire al cinquantesimo, ma sul cross di Miceli, Volpe, anche se in maniera non proprio ortodossa, riesce a neutralizzare il colpo di testa di Miracoli. Al cinquantaquattresimo, Calombo, che lo fa a centraire della destra, Marchi calce di prima intenzione, ma Perina, questa volta fidistende e blocca. Al sessantasettesimo, ci riprova Tomi di potenza su punizione dalla distanza, il palone indirizzato sotto la traversa, ma Volpe alza in corner. Settantanovesimo minuto. Esposito, subentrata valente, taglia con un colpo d'esterno la difesa e Gubina, servendo Rapisarda, che corre in aria sul filo dell'offside. Palla tesa per Miracoli, che ha due passi dalla linea, cicchi il pallone. Calombo la controlla, ma scivola nel momento di rinviarla. Il contrasto di Esposito premia ancora Rapisarda, che di potenza infila la palla sotto la traversa a distanza ravvicinata. La Samb trova il pari in modo rocambolesco, grazie al secondo figillo stagionale del laterale destro, ex Lumezzane. Un minuto dopo, Miracoli sfila palla a Calombo e alimenta Di Massimo, subentrata gelonese, che rientra verso l'interno e calce a girare. Volpe risponde presente. Al minuto 87, Miceli regala palla a Marchi sulla tre quarti. Il capitano rosso-blu cerca un fantascientifico bis, calciando verso la porta, vedendo Perina sempre avanzato. La sfera termina, seppur di poco, sopra la trasversale. Al novantesimo, una seconda palla, rimessa al limite da Piccini. E preda di Esposito, che provi il mancino di prima intenzione, Volpe si distende e para. Finisce 1-1, un punto che consenta al Gubbio di muovere la classifica nonostante la zona play-out sia quanto mai prossima. E sabato, alle 14.30, si torna al Barbetti, dove arriva l'Albino Leffe.